san francesco di sal 1567 1623 vescovo cattolico francese in massime dice la maniera di far bene ogni nostra azione è il farla alla presenza di dio non avremo certamente cuore di strapazzarla sapendo che egli ci vede e ci osserva commento l'evoluto agisce sempre in funzione di dio al di là di come l'altro agisca faccia senta pensi nei suoi confronti